Brutta avventura per uno dei componenti del gruppo comico, ditelo voi, noti al grande pubblico per aver preso parte negli ultimi anni alla trasmissione di Rai 2 Made in Sud. Durante uno show alla Sagra della Porchetta di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, Mimmo Manfredi, uno dei componenti del trio, si è infortunato ad una gamba e per questo lo show è stato interrotto. Molta apprezzione fra il pubblico e gli organizzatori, ma per fortuna dovrebbe trattarsi solo di un lieve infortunio, anche se le dinamiche dell'incidente sono un po' particolari. I ditelo a voi stavano portando in scena uno degli sketch che li ha resi famosi al pubblico di Made in Sud, ovvero quello in cui uno dei comici si finge morto. Per questo Manfredi era sdraiato a terra sul palco allestito nel paese casertano, ma una delle travi del palcoscenico ha ceduto e la gamba del comico è rimasta incastrata. L'uomo è stato subito aiutato dai suoi colleghi e dagli organizzatori e dopo essersi alzato è uscito zoppicando dalla scena. Il comico è stato poi portato in ambulanza nel più vicino ospedale per degli accertamenti, ma il fatto che si sia allontanato sulle sue stesse gambe ha fatto passare la paura per il peggio. Per ora però non si sa se il tour dei Dito Lovoi verrà interrotto o meno.